Paura a Kabul per un aereo militare italiano, un C-130J della 46esima brigata aerea di Pisa, come quello di queste immagini di repertorio, sfiorato dal fuoco dei talebani al decollo. L'aereo, impegnato in operazioni di evacuazione della popolazione in seguito all'avanzata dei talebani e alla recrudescenza delle violenze nel paese, era appena partito dall'aeroporto di Kabul quando l'equipaggio ha avvistato dei traccianti di armi da fuoco nelle vicinanze del velivolo. La pilota e i comandi, quindi, ha eseguito le manovre evasive normalmente apprese in fase d'addestramento per ridurre al minimo l'esposizione dell'aereo al potenziale fuoco nemico. Accertato che non ci fossero danni all'aereo né feriti tra le persone a bordo, l'equipaggio ha continuato il volo per il Kuwait, dove i passeggeri hanno proseguito per l'Italia con un KC-767A dell'aeronautica. Una situazione di tensione, ma nulla che i militari italiani non fossero pronti e addestrati per affrontare, soprattutto in un contesto operativo in continua evoluzione come l'Afghanistan di questi giorni, dove continuano ininterrottamente le operazioni di evacuazione dei cittadini nell'ambito dell'operazione Aquila Omnia, coordinata dal Comando Operativo di Vertice Interforze di Roma, ai comandi del generale Luciano Portolano. Poco dopo quest'episodio, un attentato kamikaze, seguito da una sparatoria, è avvenuto proprio nei pressi dell'aeroporto di Kabul. Ci sono stati diversi morti e feriti, ma fonti della difesa hanno fatto sapere che nessun italiano è stato coinvolto. La deflagrazione è avvenuta in un'area distante, da dove stanno operando i militari italiani.